buongiorno a tutti e volevo fare un video diciamo di letteratura contemporanea quindi su due film perché evidentemente per chi non se ne fosse accorto la letteratura del ventesimo secolo sono la cinematografia che parla a tutti i strati della popolazione così come quella del diciannovesimo secolo erano i romanzi e così via due film che sono sicuramente di altissimo livello di qualità di sceneggiatura quindi vanno visti rivisti sono sicuramente di qualità e che però per molti versi sono diversi ma da un punto di vista hanno un punto di contatto importante che è solo una delle letture dei due film che magari non tutti vedono danno questa importanza che merita ed è i due film sono papillon il film sul condannato alla goiana francese che rimane in carcerato per anni poi alla fine riesce a fuggire e la serie invece chernobyl di 5 6 anni fa qual è il punto di contatto che vedo nei due film entrambi due film hanno un'interessante analisi di quello che è l'amicizia tra due persone in papillon vediamo che c'è l'avvicinamento tra due persone molto diverse e lo stesso capiterà anche in chernobyl cioè tra una persona che due persone che hanno avuto problemi con la legge ma una più degà che è una persona che ha avuto più intellettuale un criminale finanziario l'altro invece più un sanguigno una persona di mondo una persona che aveva a che fare con situazioni della strada e verrà condannato lui dice giustamente per l'omicidio di un di uno sfruttatore di prostituzione comunque due mondi molto diversi e nell'avvicinamento tra queste due persone si vede subito quando papillon sapendo che degà è comunque benestante gli offre la sua protezione in cambio di denaro e si vedono due mondi molto diversi perché degà che ha bisogno di protezione in un ambiente che non conosce che è alieno all'inizio è sospetto e dice io non ho bisogno della tua protezione e poi dopo ricambierà idea e che cosa succede è una parte interessante che all'inizio gli dice io poi con questi soldi scapperò papillon dice a degà ma non non scapperai tu con me scapperò da solo e lui dice io non ho nessuna intenzione di scappare io voglio sistemarmi trovare delle guardie da corrompere e poi probabilmente il mio avvocato mi farà fuggire mi aiuterà a uscire insomma non vi racconto tutto il film ma banalmente entrambi rimarranno bloccati per anni molti molti anni poi alla fine uno dei due ovviamente riuscirà a tentare la fuga per l'ennesima volta degà che più di una volta più almeno una volta tenta la fuga ma perché è forzato non perché lo vuole fare alla fine si vede che papillon è convinto vuole convincere quello che ormai è diventato un suo amico perché hanno imparato a conoscersi in tutto il film c'è un avvicinamento continuo ed è convinto che vada anche lui in pratica insomma è tutto pronto per partire tutto pronto per partire degà gli dice papillon io ti devo dire una cosa e degà papillon dice tu non mi devi dire nulla perché lui sa che gli vuole dire che non vuol partire perché ne ha paura e quello che si abbracciano e poi papillon va è interessante vedere come questi due uomini diversi si siano avvicinati moltissimo fino a capirsi nonostante fossero così diversi ed è un tema importante ed è scritto molto molto bene magistralmente da Hoffman e da Steve McQueen che tra l'altro c'è questo aneddoto per cui viene pagato mi pare un 30 40% di più di Hoffman e Hoffman si stupì insomma dice ma perché a lui pagate di più due attori straordinari che hanno dato una prova veramente di altissimo valore in Chernobyl c'è una situazione simile abbiamo Scerbina e Ligasov Ligasov è uno scienziato che viene convocato per fare l'analisi del problema di Chernobyl da questo Scerbina che è uno dei ministri del governo sovietico e si vede subito che Ligasov tiene distanze rispetto a Scerbina ma soprattutto è Scerbina che ti permette di chiamarmi per nome non darmi del tu e per tutto il film anche almeno per tutto l'inizio del film Scerbina sa di saperne di meno chiede a Ligasov di spiegarvi una cosa gliela spiega come funziona un reattore nucleare gliela spiega molto velocemente quando ha finito in pochi manciati di secondi Scerbina dice bene ho capito come funziona un reattore nucleare non ho più bisogno di te in cui si vede tutta l'arroganza del politico che verrebbe da dire nella sua ignoranza pretende di sapere poi si scoprirà che non è così semplice che Scerbina non è un politico superficiale e semplicemente arrogante però è anche un politico e ne ha le caratteristiche che cosa succede di interessante che nel passaggio nel procedere e poi si vedono del film si vedono ovviamente anche i limiti di Ligasov come scienziato che non ha la capacità di comunicare con gli altri laddove invece Scerbina è molto bravo a convincere i minatori a convincere le maestranze con il linguaggio giusto mentre Ligasov c'è una scena in cui sono al telefono con Gorbachev Gorbachev fa una domanda Ligasov risponde in maniera brusca e Gorbachev butta giù il telefono quindi oppure Ligasov parla con il capo del KGB e la stessa maniera rischia tra virgolette di creare un problema serio quindi tutte e due hanno dei problemi sono due mondi diversi ma pian piano si avvicinano si vede a un certo momento in cui dopo per esempio il litigio quasi con Gorbachev Scerbina il politico dice dobbiamo uscire sono in un hotel di Chernobyl dobbiamo uscire per far due chiacchiere e lui dice ma non ho voglia sono stanco quella dobbiamo uscire per fare due chiacchiere però glielo dice già in maniera molto più morbida cioè cerca di avere un contatto di creare un ponte e si comincia a comunicare in maniera diversa e da lì si crea un ponte diverso per cui finirà il film alla fine poi veramente non faccio spoiler per chi non l'ha visto è una serie bellissima in cui i due si trovano perché c'è l'ultimo dialogo tra i due in cui Scerbina dice io sono un politico fondamentalmente inutile non ho una vera importanza un vero valore e Ligashov dice no tu sei stata una persona veramente importante qualunque scienziato avrebbe potuto fare quello che ho fatto io tu invece sei quello che ci ha fatto avere tutto quello di cui avevamo bisogno per esempio nominatori materiali lunar rover eccetera eccetera e lì si vede che i due uomini si sono incontrati si sono conosciuti si sono anche apprezzati pur essendo due mondi diversi ecco questi due punti sull'amicizia sono molto trattati in maniera profonda e bella in questi due diversi film sicuramente di qualità cito il finale di Chernobyl in cui c'è un dialogo in cui Ligashov dice che cos'è la verità qual è l'importanza della verità che dovrebbe essere insegnata a scuola che dovrebbe essere data per assodata cioè la verità esiste al di là dei nostri bisogni noi non dobbiamo anteporre i nostri bisogni alla verità dobbiamo sottometterci la verità perché la verità non ne frega niente dei nostri pregiudizi religiosi filosofici eccetera eccetera che è un tipico discorso da scienziato ma che ha un valore anche questo ma è una cosa un po' alattere ma che noto perché è importante ma quello che voglio rimarcare è l'analisi dell'amicizia del percorso di approfondimento dell'amicizia che c'è in questi due film che secondo me è fatta molto molto bene quindi un plauso agli sceneggiatori sicuramente e agli attori che in entrambi i casi questi quattro attori adesso non ricordo che hanno fatto i due personaggi di cernovid ma sono due attori comunque di vecchia data anche loro che hanno magistralmente interpretato queste queste questi personaggi e come dico secondo me una delle letture delle molte letture di questi due di queste due opere cinematografiche sono l'evoluzione di che dell'amicizia di che cosa significa l'amicizia di come si struttura si si sviluppa un termine di amicizia tra due persone nonostante che siano diverse anzi a volte proprio nella loro differenza ed è descritto in maniera questa vera letteratura giustato per per dire così come la letteratura del ventesimo secolo fatta dal film quindi ci si può trovare delle bellissime descrizioni di queste di queste tematiche tipicamente umane quindi il nobel per la letteratura questi due film secondo me e grazie per avermi seguito e al prossimo video